E' stato precisissimo su questo Leonardo Maldas, ma voglio rileggere l'articolo che ha citato il consigliere Giannarelli. L'articolo 7,1 è verissimo che dice che il dibattito pubblico regionale e il disegno di dibattito pubblico è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi. Non c'è l'opera, non c'è l'intervento e non c'è il progetto. Impareremo a conoscerci.